buon pomeriggio a tutti e bentornati nel mio angolo make up allora amiche mi oggi useremo la nuova palette della revolution una palette che ho acquistato da poco e io inizierei con una cialda chiarissima ragazze perché con questa palette andremo a fare un make up molto molto acceso io inizierei appunto con questa cialda molto chiara che la vado ad applicare per tutta la palpetra dell'occhio la palpetra mobile la sparmo per bene ragazze perché le altre cialde sono pigmentatissime poi più avanti vedrete userò questo pennello che mi sto trovando veramente bene per delineare il mio angolo dell'occhio ma io direi che per il momento vi lascio il video e Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Adesso qui vado a prendere la terza cialda che è un pochettino più chiara e la vado a sfumare insieme alle altre Grazie a tutti 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 Grazie a tutti